Due presunti scafisti di un gommone con a bordo 105 migranti partito dalla Libia per approdare in Sicilia. Sono stati fermati su disposizione della procura di Siracusa da investigatori del gruppo Interforza di contrasto all'immigrazione clandestina, costituito da polizia, carabinieri, guardia di finanza e guardia costiera. Sono un somalo onganese, entrambi di 22 anni, il primo alla guida del natante, e il secondo che collaborava alla navigazione, indagati per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Il gommone lungo 12 metri con motore fuori bordo era stato intercettato a sud di Lampedusa da navi della Marina Militare nell'ambito dell'operazione Mare Nostrum. I soccorsi si sono conclusi nel porto di Agusta. Intanto dall'inizio dell'anno sono stati soccorsi nel canale di Sicilia e nelle acque di Pui e Calabria 5.611 migranti, ovvero 11 volte di più di quanti ne furono soccorsi nello stesso periodo l'anno scorso, 476. Lo ha rilevato in un'addizione alla Commissione Schengen il direttore centrale dell'immigrazione nel Dipartimento di Pubblica Sicurezza Giovanni Pinto, spiegando che questi numeri pongono un problema di asilo e assistenza e che proprio per questo si sta lavorando per creare ulteriori 6.000 posti nei centri di accoglienza. Bisogna spostare l'attenzione nei paesi di partenza e di transito, aggiunto, anche perché non è possibile respingere migranti. Questo è un principio da cui non possiamo derogare.